Ciao a tutti dal vostro Gabomen, eccomi qua ragazzi, la Konami ha aggiornato la situazione e quindi mi rifaccio una partita online della UEFA Champions League per vincere 5000 GP. Questo c'ha Guardiola ragazzi, l'Inter e addirittura guardate che bella formazioncina che andate a mettere in campo. Vediamo Yaya Touré, Fabregas, Shakiri, Douglas Costa, Sio, Martinez, Nastasic, Mexes, Licksteiner, Flanagan e Garzia. Ma quello che mi preoccupa ragazzi è che c'ha Gervigno che lo hanno aggiornato e praticamente è diventato imprendibile, c'ha una velocità assurda. Allora, per me andiamo a mettere Rafinha sulla sinistra e per il resto mi sembra di stare a posto. Quindi direi di non perderci in chiacchiere ragazzi, vediamo un po'. Andiamo avanti, eccoci qua, consigli del gioco, comandi put, scatto put. Quando controlli il portiere, tieni premuto R1 e X per scattare verso il giocatore in possesso di palla per tentare di chiuderlo. Io non l'ho capita questa, vabbè. Che dice qua? MyClub contratti con i giocatori, vabbè, il numero delle partite in cui un giocatore può scendere in campo e MyClub dipende dalla durata del contratto. Lo sapevamo, questa è una cosa praticamente che va in giro dal 36. Ok, che stadio è questo? Questo c'ha l'Inter, mamma mia, ma che ha messo? Che è sto coso? Ma poteva metter San Siro? Studio, Orione addirittura. Ma che è? Pare un studio di un avvocato. Allora, dai. Cominciamo subito, subito la partita ragazzi. Tentiamo di recuperare il possesso della palla. Eccolo qua, subito. Guardate che scambi rapidi. Questo cerca di impaurirmi ragazzi. Oh, niente, non riesco a recuperargli la palla. Nastasic, passaggio al centro per Douglas Costa che tenta un'imbucata per Pisellone barra Pisellino Schagiri. Oddio, oddio, Noyer, ma dove cazzo vai? Porca puttana. Incredibile, subito il svantaggio. Non ho fatto un tempo a cominciare. Ah, Noyer ogni tanto fa le cappellate ragazzi. Non si sa perché è uscito e ho subito il gol del tracollo. Porca miseria. Subito, subito. Tentiamo di recuperare il pallone. Wesley Snyder, palla per Rakitic. Imbucata per Pisellone Schagiri. Eccolo qua, il mio Schagiri tenta un passaggio al centro. Niente. Ha chiuso tutto quanto. Mannaggia la miseria. Passiamo ad un'altra azione. Ancora Rakitic. Scambi 1-2 con Remy. Guardate che alzata. Stop. Tiro, oddio, mamma mia. Che tiro. Porca miseria. A momenti glielo faccio. Non mi arrendo ragazzi. Ce provo ancora una volta. Contropiede. Guardate addirittura 4 contro 4. Schagiri. Imbucata per Rakitic. Vediamo che riesca a combinare. Palla al centro per Pisellone Remy. Oddio, oddio. Mamma mia. Non si sa come ha fatto. È riuscito a disimpegnare. Non mi arrendo. Ancora guardate che spallata di Rafinha. Ancora non scambia 1-2. Niente. Niente. Guardate come cavolo ha disimpegnato. Mannaggia la miseria. Che mannaggia. È ripartito un contropiede. E qua la cosa me preoccupa. Meno male che recupero palla con Rakitic. Passaggio per Pisellone Remy. Imbucata ancora per Rakitic. Mamma mia. Famo sto gol del pareggio. Te prego. Imbucata al centro. Oddio. Niente da fare. Mamma mia. Riparte un'altra volta. Incontropiede al 24esimo minuto. Con Yaya. Pisellone. Ture. Mamma mia. Guardate quanto corre questo. E che ho fermo. Oddio. Un'altra volta. Oddio. Chiudilo. Chiudilo. Tiro parata. Oddio. Questa mesacca è mia. Sì. Non si prende ragazzi miei. È proprio forte. Ma. Passiamo ad un'altra azione. Tento ancora. Un'imbucata 1-2. Vediamo. Remy se fa anticipare come un pirla. E riparte un'altra volta incontropiede. Niente da fa. Niente. Riesca a recuperare il pallone. Meno male. Va. Eccolo qua. Rakitic. Vediamo che riesca a combinare. Se inserisce ragazzi. Vediamo un po'. Un'alzatina. Per Ramirez però. Che si fa buggerare dal portiere. Ancora un'altra azione per me ragazzi. Non mi arrendo. Vediamo un po'. Se riesco a fare questo cavolo di gol del pareggio. Rafinha. Guardate come mi inserisco. Passaggio per Rakitic. 1-2. Ancora uno scambio. Mamma mia. Shakiri. Che azione. Tiro. 1-1. Taglie così. Porca miseria. Non si possono prendere quei gol all'inizio. È una cosa proprio inguardabile ragazzi. Mamma mia. Eccolo qua. Recupera il possesso della palla. Lo recupero io. Lo recupera lui. Oggi sto capincazzo. Mia. Per fortuna. Ok. Oddio. Oddio chiudilo. Che cavolo ha combinato. Mamma mia. C'è un minimo di lag ragazzi. E questo è il risultato. Tento ancora un'imbucata ragazzi. Ma è fine. Primo tempo. 1-1. Addirittura 50-50. E due diri in porta ciascuno. Mamma mia. Precisi proprio. Vabbè. Quindi il risultato è così. Allora. Andiamo avanti ragazzi. Devo cercare assolutamente di fare il gol del 2-1. Vediamo un po' se ce riesco. Mamma mia. One Fran. Passaggio per Shakiri. 1-2. Rakitic. Vediamo se chiude l'imbucata. Eccolo qua. Shakiri che avanza. Guardatelo come spinge. Mamma mia. Che fenomeno. Tento il cross. Ma mi viene deviato. Ancora recupero il possesso. Guardate come One Fran si destreggia. Tento ancora un cross. Oddio. Colpo di destra che non arriva. E riparte un'altra volta in contropiede. Mamma mia. Pizzellone Ture. Guardatelo come spingne. Oh. È imprendibile ragazzi. Guardate che roba. Tenterà un'imbucata ragazzi. Vediamo un po' se lo chiudo. Mamma mia. Ma sa che era fuori gioco però. Eccola infatti. Fuori gioco ragazzi. Quindi che cosa facciamo. Vediamo un po'. Tentiamo di fare un passaggio corto ragazzi. Barzagli. Vediamo un po' che combino. Passaggio per Ramirez. Uno due. Snyder. Vediamo ancora un'imbucata qua. Eccolo qua. Mamma mia. Rakitic. Oddio. Recupera la palla. Mamma mia. Rakitic. Tiro. Oh mio Dio. Mamma mia. De poco. Passiamo ad un'altra azione ragazzi. Non mi arrendo ancora una volta. Pizzellone Remy. Palla per Rakitic. Ancora. Tiro da fuori. Mamma mia. Ha parato pure questa. Ma la lag non è dalla mia parte ragazzi. C'ho difficoltà. Ancora Wesley Snyder da calcio d'angolo. Ragazzi. Come al solito. Tentiamo un cross di questo tipo. Vediamo se arriva un colpo di testa. Il colpo di testa non arriva. Tiro da fuori. Oddio. Mamma mia. Incredibile ragazzi. Facciamo qualche cambietto. Per cercare di migliorare la situazione. Io direi di togliere Pizzellone e Shakiri. E inserire sala fresco fresco di giornata. Poi. Diciamo che in attacco. Andiamo a inserire Dumbia al posto di Remy. E per il momento. Mi fermo qua. Ok. Scusate. Un minimo di tosse. Ce li fa sempre. Bene. Eccolo qua. Ok. Ripartiamo. Un'altra volta. Lui con Pizzellone e Shakiri. Vediamo un po'. Ha messo Cervigno in campo. A me. Me preoccupa sta cosa. Shakiri. Oddio. Parata. Meno mare va. One Fran. Tento di ripartire. Mamma mia. Butta sta palla va. Non è aria con Cervigno. C'ha una velocità di quelle incredibili. Ok. L'ho spazzata. Gliel'ho buttata addosso. Ed era rimessa la laterale per me. Adesso un'altra rimessa laterale per lui. Riparto in contropiede con Rakitic. Ma sono un po' isolato lì davanti. Ancora la lagga. A darmi un po' di fastidio. Riparte in contropiede. Javi Martinez. Douglas Costa. Passaggio per Pizzellone e Shakiri. È tutto solo Cervigno. Porca puttana. L'ho pure toccata. Oggi Noyer sta a fasse le zaganelle. Li mortacci tua. Porca puttana. 2-1 per lui. Continua un po' di lagga ragazzi. Tentiamo di fare qualcosa. Io non ci sto. Non voglio assolutamente perdere. Andiamo a cercare almeno il pareggio. Ma nel frattempo recupera il possesso palla. Adesso ci avrà tutta la calma di sto mondo. E infatti guardate come se la smelina. Per fortuna recupero il possesso. Palla per Rakitic. Vediamo un po' che combino. Finta. Inserimento. Mamma mia. Ma che ha fatto? Che ha combinato? Pizzellone e Dumbia. Ultimamente non lo riconosco più. Porca la miseria. Recupero ancora una volta il possesso della palla. C'ho i minuti contati ragazzi. Ottantunesimo minuto. Ramirez. Vediamo un po' dentro. Il tiro da fuori. Ha parato pure questa. Calcio d'angolo. Mamma mia. Mamma mia. Ancora Wesley Snyder da calcio d'angolo. Tentiamo di fare qualcosa. L'abatto un po' più potente. Eccola qua. Parte. Oddio. Eccolo Rafinha. Dai. Tiro. Eccolo qua. 2 a 2. Dai così porca la miseria. Se non avessi fatto quella cazzata all'inizio. O meglio. Se Neuer non mi avesse fatto quelle due cazzate. Staremmo parlando di un'altra partita. Stiamoci attenti ragazzi. Perché Gervinio mi fa veramente paura. Ancora riparto con Rakitic. Ragazzi. 1-2 per Salah. Tento un'imbucata. Ma sa che questo è bello. Che è fuori gioco. Eccola. E infatti. Vabbè. Non ci lamentiamo. Ancora una volta riparto ragazzi. Non mi arrendo. Salah. Vediamo un po' che combino. Crossettino per Rakitic. Vediamo se riesca ad imbucare. Mamma mia. Che cross che ha fatto. Incredibile. Novantesimo minuto. Calcio d'angolo per lui. Spazzamo sta minchia di palla. Vabbè. No. Gli riesce a pararla. La rilancio. Ma mi sa che è finita qua. Addirittura non ha dato manco il recupero. Quindi. Si vai. Supplementari. 7 a 7. 7 a 5. Vabbè. Praticamente stiamo là ragazzi. Inizia i tempi supplementari. Subito subito. Dai così. Dai. Cerchiamo di fare sto gol. Mamma mia. Oh. È incredibile sta partita. Riparte lui ancora una volta ragazzi. Stiamo sattenti a Cervigno. E cerchiamo di recuperare come al solito il possesso della palla. Eccolo qua. Scambio per Pisellone Licksteiner. Guardatelo come avanza sulla fascia. Mamma mia. Questo. C'ha 36 bustine di fiato ancora. È incredibile. Allora. Passaggio. Cerchiamo di gestire la situazione. Cerchiamo di andare avanti. One Fran. Inbucata che non riesce per Raghi. Dice. Mamma mia. Ho caricato pure a Ciavatta per far uscire il passaggio. Niente da fare. Riparto con Ramirez. Passaggio sbagliato. Ma come ha fatto a sbagliarmi quel passaggio? È incredibile. Chiudilo lì mortacci tua. Che lì mortacci. Non lo so come cavolo è possibile. Ma ha fatto il passaggio al giocatore sbagliato. E ho preso un altro gol del cavolo. Porca miseria. Ecco alla 3 a 2 al 96esimo minuto. Dobbiamo cercare assolutamente di recuperare. Chiudilo. Chiudilo. Butta sta palla. Oddio. Mamma mia. Mamma mia. Buttala. Mamma mia. Non so più che fa. Mannaggia la miseria. Chiudilo. Mamma mia. Dai. Allora. Ragioniamo. Mettiamo Marchisio. Ragazzi mi gioco l'ultima carta che mi resta. Levo Ramirez che ha finito praticamente la fiatella. Passaggio di Marchisio. Inbucata per Pizzellone Dumbia. Guardate come. Mamma mia. A me mi dà fastidio giocare con la lag. Cioè. Ma perché deve fare così? Non l'ho capita io. Eccolo qua. Mo riparte un'altra volta con Cervigno. Ragazzi. Mamma mia. Non riesco a togliergli la palla. Dai. Levegliela. Porca miseria. Questa è mia. Mamma mia. Me sto a nervosi. Me sto a nervosi. Ok. Barzagli. Passaggio per Pizzellone manca là. Esco da una situazione difficile. Ma la lag continua a perseguitarmi ragazzi. Salà. Vediamo un po' che riesco a fare. Passaggio all'indietro. Non lo volevo da lui. Mannaggia la miseria. È ripartito un'altra volta. Mo ti faccio sentire la presenza. Oh. Guarda là che razza da cappottamenti. Ma questa è mia. 104 minuti di gioco ragazzi. Questa me sa che non riesco a portarla a casa. Ce provo. Ce provo. Mattie. Passaggio per Rafinha. Mamma mia. Guardate là che cosa sta succedendo. Ancora Pizzellone d'Umbia. Eccolo qua che avanza. Pizzellone d'Umbia. Guardatelo come scatta. Dai. Dai. Oddio l'ha sartato. Uno di troppo. Uno di troppo. Doveva dalla prima. Ma era leggermente isolato lì davanti. Finisce il primo tempo supplementare ragazzi. Siamo 10 tiri a 9. Sono rimasto a 7. E vabbè. Che tocca fa. Niente. Cerchiamo di fare sto call ragazzi miei. Proviamoci. In tutti i modi. Non mi arrendo. Io non mi arrendo mai. Salà. Imbucata. Vediamo un po' per Marchisio. Che nel frattempo l'ho spostato sulla fascia. Il cross. Colpo di testa. Oddio. Ma che cosa ha parato? Io non ce posso. Non ce posso credere. Ha fatto una parata assurda. Ma chi ci ha in porta? Bah. Non ce ho parole. Calcio d'angolo mamma mia regà. Sto a finire pure il fiato. Questo riparte un'altra volta in contropiede. Quello poteva essere il gol del pareggio. Io non ce la posso fare. Barzagli. Dai. Cerchiamo di fare qualcosa. Ancora Marchisio. Scambio 1-2. Imbucata. Che non riesce. Non si sa come ha. Ci ha messo 4 ore. Salà. Per fare quel passaggio. Riparte ancora una volta ragazzi. Recupero la palla. Io non mi arrendo ancora. Salà. Sei in buca. Oddio. Salà. Tiro. Dai. Oddio. Ma che cazzo però. Non è possibile. Quello è fallo. Non ce la posso credere. Non ce la posso credere. Sta succedendo. Macello. Sta succedendo. Ho finito le parole ragazzi miei. Gervinio. Ma. Guarda che sta succedendo. Guarda che sta succedendo. Non se può comunque. Che razza di palo. Mamma mia. Guarda là. Niente da fare ragazzi miei. Gervinio. Riparte ancora una volta. Lo chiudo con Rakitic. Juan Fran. Tento di far girare la palla. Ma guardate. Iaia Turema. Che ce devo fare. Uno così. Io non lo so. Annaggia la miseria. Chiudilo. Mamma mia. Wesley Snyder. Ancora Marchisio. Sta a finire tempo. Ragazzi miei. Non so più che fa. Ho finito pure la voce. Mamma mia. Ho strillato troppo a sto giro. Vi dica la verità. 118esimo minuto. Vediamo se riesco a combinare qualcosa. All'ultimi secondi. Ma a me sa tanto che non ce la faccio. Oddio. Ancora un'azione. Dai. Tira dalla tira. È finita ragazzi miei. Sono stato buggerato. E vabbè. Non si può sempre vincere nella vita. Accettiamo sta sconfitta. 50 e 50. I diri sono stati gli stessi. Ma la sfortuna è stata dalla mia parte. Se vi è piaciuto ragazzi un bel mi piace. Commentate. Condividete. E iscrivetevi al mio canale. Subito subito una pescatona ragazzi miei. Come al solito. Agente Toppo. Non ce la faccio più. Non ce la faccio la voce. Allora. Agente Toppo. UEFA Champions League Stars Week 2. Pago con GP. E vediamo un po' quello che succede. Oh. Speriamo un pallone nero. Ultimamente sto più a troppi palloni oro. Me lo auguro. Me lo auguro. Dai. Schiacciamo la cazzo dei cani come al solito. Guardate come girano le palle. Me stanno a girare veramente le palle. Un altro pallone oro. Non è possibile. Ma chi è questo? Ma chi è? Io non ce posso credere. Questo è dell'Arsenal. Ma chi è? Io lo conosco. Oggi guarda una fortuna proprio della madonna. Incredibile. Cioè. Mi è andata male la partita. La pescata mi è andata male. Vabbè. Che tocca fare ragazzi. Eh. Me lo tengo. Me lo tengo. Vabbè. Che dire. Non c'ho più la voce. Quindi vi do appuntamento al prossimo video. Bella a tutti. Ciao. Ciao.